D'estate cala sistematicamente in modo preoccupante la disponibilità di sangue. Pertanto l'Avis comunale di Lucera rivolge un appello a tutti i donatori e coloro che si trovano in buona salute e che con la voglia di donare possono aiutare qualcun altro che si trova in situazione di bisogno. Prima di partire ricordati di donare. Anche quest'anno oltre alle consuete giornate del lunedì e giovedì con orario dalle 8.30 alle 10.30 si potrà donare tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 17 alle ore 21 sempre presso l'unità trasfusionale del presidio ospedaliero La Staria di Lucera. L'invito è a programmare la donazione estiva rivolgendosi alla sede comunale dell'Avis, sita in piazza Salandra 25 a Lucera visitando il sito avislucera.it o telefonando ai numeri 0881 52 0946 o 366 30 60 390 e che anche in estate è regolarmente aperta per ferie. Donare il sangue è un gesto importante utile a salvare vite umane. Donare il sangue è un gesto importante utile a salvare vite umane. . . . .